Per evitare il declino e lo spopolamento dei territori aquilani, una chiamata collettiva ad associazioni, cittadini, movimenti, per recuperare spazi sportivi, culturali e sociali per far vivere la città e tenere accesa la speranza di un futuro all'Aquila. A farlo è appello per l'Aquila e l'Aquila che vogliamo, rappresentati in Consiglio Comunale da Ettore Di Cesare e Vincenzo Vittorini, che convocano per mercoledì, primo marzo, alle ore 17.30, un'assemblea pubblica nella Sala Rivera a Palazzo Fibioni. Confrontiamoci su temi cruciali per il futuro a cui finora non sono state date risposte, la sicurezza sismica dei luoghi pubblici o privati, l'utilizzo dei fondi del 4% per la ricostruzione delle frazioni, le funzioni del centro storico, il Gran Sasso e i suoi paesi, il rapporto con l'università, il Gran Sasso Science Institute con gli studenti, la realizzazione di spazi sociali. L'invito è rivolto a tutti quelli che hanno conosciuto il nostro percorso e che hanno ritenuto un valore aggiunto per la rinascita della città, a chi vorrà condividerlo, portando il proprio contributo anche a mettersi in gioco in prima persona. L'assemblea sarà l'occasione per rendicontare l'impegno e le azioni di controllo e di proposta, dicono i due consiglieri, in un confronto aperto e rigoroso.